10.000 mascherine, un numero incredibile di dispositivi di protezione del tipo FFP3 verranno distribuiti sul territorio comunale di Camerota. Le quattro giornate, una per ogni paese, Camerota, Licusati, Lentiscosa e Marina, sono organizzate dal comune di Camerota in stretta collaborazione con Cittadinanza Attiva e l'Associazione Poliziotti Italiani Camerota. Le mascherine verranno distribuite lunedì 8 febbraio a Licusati in piazza San Marco, martedì 9 febbraio invece a Camerota piazza San Vito, mercoledì 10 febbraio a Marina di Camerota in zona Lungomare, Trieste e giovedì 11 febbraio a Lentiscosa piazza Semaforo. Gli orari sono sempre gli stessi dalle ore 10 alle ore 12 e poi nel pomeriggio dalle ore 17 alle ore 19. Abbiamo distribuito migliaia di mascherine di ogni genere nel corso dell'emergenza sanitaria Covid-19, fa sapere il sindaco di Camerota Mario Salvatore Scarpitta. È doveroso ringraziare Cittadinanza Attiva per aver donato i dispositivi e l'Associazione Poliziotti Italiani Camerota che si occuperà della distribuzione.